ciao sono alessandro da alba in provincia di cuneo sono pienamente soddisfatto di quello che ho comprato sul web store perchè ho trovato le marche migliori come javis apb cino a prezzi competitivi con consegna molto veloce in ballo perfetto consiglio veramente a tutti e sicuramente questo è un concorso che non è un concorso che non è un concorso che non è un concorso